Buongiorno a tutti, lunedì 10 giugno, oggi sui mercati azionari europei sicuramente il light motive è rappresentato dall'esito delle elezioni che hanno in realtà modificato ben poco a livello di maggioranze perché comunque nonostante l'avanzata in diversi paesi della destra, soprattutto in Germania e in Francia, in Francia addirittura Macron è stato costretto a sciogliere anticipatamente le camere, sostanzialmente a proclamare delle elezioni anticipate, però comunque quello che emerge anche dalle elezioni europee in Italia è sempre una sempre maggiore polarizzazione, però non siamo in questo canale a fare un commento sui risultati delle elezioni, quello che ci interessa è quanto questi risultati possano incidere sull'andamento del mercato e quello che sembra è che ci sia un po' di nervosismo, una preapertura come vedremo tra poco, il leggero calo e soprattutto in Francia con Marine Le Pen che mi pare abbia ottenuto il 32-33% grossomodo, la situazione è davvero più tesa rispetto ad altri paesi perché comunque è stata una debacle assoluta per Macron che ho letto velocemente, poi magari nei commenti correggetemi, dovrebbe essersi fermato attorno al 15%, però non perdiamo ulteriore tempo perché sono comunque tanti gli argomenti di cui dobbiamo parlare, partiamo dai futures, vedete quelli americani, Dow meno 0,05, Standard & Poor's 500 meno 0,01, Nasdaq 100 più 0,04, Russell 2000 meno 0,50, DAX meno 0,22, vedete CAC meno 0,61 è il più negativo per i motivi che vi dicevo prima, Euro Stoxx meno 0,40, Nikkei più 1,10, Hang Seng meno 1,81, Singapore più 0,04, Cospi meno 0,48. Notiziario macro, ci sono stati dei tanti nella notte in Giappone, direi che quello più importante è ovviamente il PIL trimestrale, uscito però piuttosto negativo, meno 0,5, ma conforme alle previsioni, leggermente meglio quello annuale a meno 1,8 dal meno 2 previsto, poi c'era questo deflattore dei prezzi relativi al PIL in calo al 3,4 dal 3,7. In Europa abbiamo la produzione industriale italiana alle 10, prevista in crescita allo 0,3 da un meno 0,5 e poi devo dire che c'è davvero poco o nulla. Sicuramente più interessante discorso legato alle notizie price sensitive, cominciamo da Prismian, il CDA della società approvato venerdì in lancio di un programma di riacquisto di azioni proprie per ammontare massimo di 375 milioni di Euro e anche annunciato l'estituzione di rimborso anticipato per un presto convertibile pari a 750 milioni di Euro. Non è ovviamente una brutta notizia, però 375 milioni per Prismian non sono nemmeno tantissimi. Io come vi ho già detto nel video di Riepilogo settimanale dove analizzo l'intero Fuzzimib che ho pubblicato soltanto ieri sul canale, me ne scuso ancora con voi, più che altro perché non ho avuto il tempo materiale per fare poi quello che si occupa di mid cap star e growth, vedo il titolo in fase di correzione con primo obiettivo 5808, poi scusate 5748, poi 5674, 5624, ma non mi stupirebbe vederla anche sul minimo del 14 di maggio che è 55,08 e per questo motivo al di là della notizia sono ancora leggermente negativo per il breve, perché dico leggermente negativo? Perché è una correzione fisiologica dopo un rally senza fine con nuovi massimi storici toccati di recente il 27 di maggio 61 e 06. Stellantis, qui vi ho già detto come io abbia il titolo nel mio portafoglio di medio e lungo periodo e sotto 19,648 uscirò, è riportata nuovamente perché è due o tre giorni che gira la notizia del richiamo preventivo dei veicoli dove gli airbag potrebbero avere dei difetti e oltretutto oltre alla famosa C3 e alla DS ci sono però vabbè qua parlano di Opel però comunque in ogni caso quello che è detto è che la notizia su questi richiami è ovviamente molto negativa, però il mercato è riuscito fino adesso a tamponare e di conseguenza io ho mantenuto perché il titolo non ha perso il minimo. Andiamo adesso a Monte dei Paschi, Monte dei Paschi è nel trading range determinato dalla spinning top del 29 di maggio 4,58 e mezzo 5,07 in vista della scadenza del periodo di lock up che impedisce al tesoro di media di nuove azioni a Banca Toscana, quella sera di domenica ha ribadito che una delle possibilità allo studio è quella di collocare azioni presso un gruppo sezionato di investitori per creare un nucleo azionisti più stabili rispetto ai fondi di investimento che hanno acquistato finora, però ripeto qui siamo ancora in trading range. Abbiamo anche Telecom, Telecom il Ministero dell'Economia e il fondo spagnolo Asterion starebbero finalizzando un'offerta da circa 800 milioni di euro per presentare team per l'acquisto della rete dei cavi sottomanii Sparcol ha riportato Repubblica Domenica, il tesoro acquisirebbe il controllo del 51% della società. Io per quanto riguarda Telecom vedo ancora nel breve una fase di correzione, media mobili a 50, 0,23, 3, 0,23 e 2, minimo 31 di maggio, 0,22 e 27, minimo del 30 di maggio. Terna ha rinnovato il programma di emissioni obbligazionari e ha alzato l'ammontare massimo a 12 miliardi di euro. Non sono pochi, però più che altro Terna è a rischio per tornare di nuovo in area a 7,60, a 7,62, 8 alla media mobile a 50, a 7,58 e mezzo la media mobile a 100, il minimo 24 di maggio è 7,54, la media mobile a 200 è 7,52. Indel B, titolo di cui non ci occupiamo spessissimo ma che nelle ultime sedute abbiamo affrontato, abbiamo toccato diverse volte, tutto questo buy-l'am, come lo chiamo io, questa patisserie è motivata dal fatto che arriverà un'oppa parziale su massimo 315.000 azioni ordinari della società pari al 5,39% del capitale al prezzo 25 euro per azione per un controvalore massimo di 7,875 milioni e 7,875 mila euro. Il periodo di lesione parte oggi e va fino al 28 giugno. Credo che il titolo possa rimbalzare, però nell'ipotesi migliore non andare oltre 23,24 perché è in fondo un'oppa solo sul 5,39% del capitale. Concludo con la notizia che è uscita, vediamo anche l'orario, ve lo metto qui, è uscita ieri alle 22,24, ritoccato il prezzo di oppa per size get era 28 euro e abbassata la soglia della condizione al 90%, per cui si sono probabilmente accorti che avevano offerto leggermente troppo poco, il prezzo si adeguerà, però non è un rilancio clamoroso sulla chiusura di venerdì 0,75. Con questo concluso auguro a tutti buon trading e noi ci aggiorniamo questa sera dopo la chiusura il mercato di urno.